Alessandria e Crotone erano in cerca di punti salvezza, alla fine trionfa la squadra di Moreno Longo che raggiunge proprio la squadra del presidente Evrenna al terz'ultimo posto a pari merito proprio con la squadra calabrese, 7 punti per entrambe le squadre, è una classifica ancora da risolvere non molto positiva per entrambe le compagini, ma la squadra neopromossa fa grandi passi in avanti sfrutta alcune delle occasioni che gli sono state concesse, per il resto il Crotone è poco fortunato nelle azioni che crea e quindi il risultato va alla squadra bianco-rossa che grazie al gol di Colai trova 3 punti pesantissimi, gol che arriva su un errore in fase di impostazione di Niedelcerau intercettato da Orlando, Orlando che poi deve servire, l'ex propatria che è libero di battere Contini prima del gol ricordiamo il rigore parato proprio dall'estremo difensore ex Napoli su Corazza che sbaglia tutto, prende mali tempi e poi Contini para il suo secondo rigore consecutivo in questo campionato, Contini che si dimostra ancora oggi uno dei migliori in campo insieme a Molina e a lunghi tratti zanellato, il Crotone ci prova, riesce anche a costruire tanto ma è molto disordinato in difesa e poco concreto poi negli ultimi 20 metri e questo va a influire nella gara perché la difesa dell'Alessandria non è molto precisa ma arrocciosa e la squadra di lungo sa quando ricompattarsi per saper soffrire insieme e poi negli ultimi minuti nonostante un recupero di ben 6 minuti concesso dall'arbitro l'espulsione di Carbo su un fallo commesso su Parodi ha influito molto quando si gioca in 10, quando ti entra un giocatore nel secondo tempo con Carbo che riesce con il dribbling a portarti in superiorità numerica quando lo perdi ovvio che fatichi ancora di più in ogni caso la squadra di Modesto può continuare a sperare bene perché le individualità ci sono, abbiamo visto grandi giocate ma mal collegate fra di loro abbiamo tanti giocatori interessanti, prima fra tutti Samuele Mulattieri che oggi non è andato in golla ma che ha avuto molte occasioni e che si è saputo ritagliare un grande spazio in questa partita dietro a una difesa molto rocciosa soprattutto con un giocatore molto in forma come Parodi che non è prestante fisicamente quanto magari un Canestrelli, un Nietelcerau dall'altra parte in fase di lettura è stato molto bravo beh Mulattieri è uno dei tanti anche come Borrello, come lo stesso Carbo che oggi è stato molto sfortunato che permettono al Crotone di poter ambire a qualcosa in più a livello di classifica in questa partita trionfa l'Alessandria, trionfa e si dà un po' di respiro perché pian piano la squadra di lungo recupera i punti che ha lasciato per strada in queste prime giornate di campionato arriva sempre più vicino a quella zona salvezza che è l'obiettivo di base stagionale i presupposti ci sono perché oggi la squadra girava molto abbiamo visto come Colai nelle prime giornate ha faticato un po' di più invece pian piano sta diventando un punto di riferimento nell'1-3-4-3 di lungo in cui oggi si sono visti protagonisti anche i due centrocampisti tra cui spicca Abouba, Alex Cosenza pian piano sta trovando ordine in mezzo al campo e sta assumendo sempre di più un ruolo chiave nello scacchiere tattico in ogni caso fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e dite la vostra qui sotto in modo tale da creare una discussione sana all'interno della community alla prossima